il nominatore un'età compresa tra i 6 e i 9 mesi signore e signori un grande applauso per il giudice dei migliori juniors alberto cucillato grazie per essere qui con noi alberto ed ecco gli splendidi cuccioloni di reggio emilia 2018 pastore tedesco peloporto cani da pastore belga malinois pastore tedesco pelolungo pastore australiano australian carl dog wesh corgi cardigan dal primo raggruppamento quindi dal secondo raggruppamento terranova cani di san bernardo a pelo corto tosa inu terrier nero russo dal terzo raggruppamento bull terrier miniature america staforshire terrier staforshire bull terrier jack russell terrier basotto quarto raggruppamento basotto standard a pelo duro basotto standard a pelo lungo basotto nano a pelo lungo basotto nano a pelo duro basotto caninchen a pelo corto basotto caninchen a pelo lungo dal quinto raggruppamento diamo qualche istante e capirete perché perché abbiamo uno stacco di coscia importante qua parliamo di alaskan malamute ciba inu perus in pelo del peru volpino italiano spitz tedesco nano anche in questo caso lasciamo passare qualche secondo prima di presentare dal sesto raggruppamento rodesia richback dall'ottavo raggruppamento labrador retriever barbè golden retriever lagotto romagnolo dal nono raggruppamento barbone grande mole nero shizu carlino chihuahua pelo corto boston terrier chinese crass dog pechinese dal decimo raggruppamento greyhound levrero afgano e piccolo levrero italiano un grande applauso splendida line up per il nostro giudice alberto cucillato che sceglierà i migliori cuccioloni di questa esposizione in questo caso parliamo di soggetti di età compresa tra i sei e nove mesi che durante i giudizi individuali della mattina hanno ottenuto la valutazione di molto promettente abbiamo a che fare con le promesse future per la razza che rappresentano sono stati quindi giudicati primi nella classifica contro i coetanei hanno spareggiato coi vincitori o le vincitrici di sesso opposto e hanno ottenuto il titolo di miglior juniores della razza ed ora sono qui per disputare il best in show juniores ovvero il miglior soggetto dell'esposizione di classe ed età juniores abbiamo una preselezione ricordo al pubblico di reggio emilia che l'organizzazione garantisce la gratuità degli applausi per cui scatenatevi va sotto nanopelo duro shiba labrador retriever chinese crested dog e un grande applauso del pubblico di reggio emilia quale splendido premio di consolazione per i migliori juniores delle varie razze che lasciano il ring in questo momento primo soggetto primo soggetto un addetto alle pulizie al rindonore per favore primo soggetto ad essere giudicato è australian cattle dog dal primo raggruppamento quello dei cani da pastore vedete essere entrato in funzione il il tavolino questo tavolino utilizzato per le razze di taglia diciamo inferiore ai 40 centimetri permette al giudice di valutare al meglio il soggetto senza avere problemi di prospettiva che lo vedrebbero giudicato esclusivamente dall'alto non permettendo così di valutare gli angoli di spalla, garretto, ginocchio, linea dorsale e così via attenzione che un addetto alle pulizie al rindonore per favore grazie Jack Russell Terrier una razza molto famosa in Italia poi conosceremo le varie razze più nello specifico quando andremo a vedere i raggruppamenti ufficiali ovvero quelli per la scelta del best in group nelle classi giovani adulte richiamo nuovamente per cortesia un addetto alle pulizie nel ring d'onore grazie ed ora sul tavolo del giudizio dopo il bassotto nano a pelo duro vediamo lo Shiba attenzione prego nonostante non ci sia più l'urgenza chiederei la presenza di un addetto alle pulizie al ring d'onore grazie labrador retriever labrador retriever l'urgenza chiederei la presenza di un addetto alle pulizie al ring d'onore grazie a tutti l'urgenza chiederei la presenza di un addetto alle pulizie al ring d'onore grazie a tutti davanti al nostro giudice alberto cucillato grazie a tutti 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 Siamo quindi pronti per conoscere quale sarà il miglior cucciolone di questa esposizione internazionale canina di Reggio Emilia. Il nostro giudice si reca sul podio per la premiazione e la nostra Laura presenterà quindi i tre vincitori. Al terzo posto Australian Cattle Dog. Secondo posto Shiba Inu. Migliori uniones Chinese Presti Dog. Ancora un grande applauso a tutti gli splendidi cuccioloni. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.